preoccupa la diffusione della variante Omicron in Italia anche se gli esperti comunque iniziano a fornire rassicurazioni circa la sua pericolosità intanto ovviamente si parla anche della campagna vaccinale con il tema sempre più caldo della somministrazione del siero ai bambini di tutto questo vogliamo parlare con la nostra prossima ospite c'è in diretta con noi la giornalista scientifica Barbara Gallavotti buongiorno e grazie per essere qui buongiorno ben trovati grazie speciale anche perché oggi è un festivo quindi insomma eh grazie per aver deciso di dedicarci un po' del suo tempo un piacere allora io partirei dalle vaccinazioni ai bambini che è un tema di cui si parla molto in queste ore allora le chiedo come si coniugano le preoccupazioni forse anche legittime in alcuni casi eh dei genitori e molti appelli a cui assistiamo in queste ore ad esempio il professor Locatelli l'altro giorno ha detto se volete fare un regalo ai vostri figli regalate loro il vaccino beh allora dunque il fatto è che eh ormai ci sono purtroppo eh diversi dati che dimostrano come i bambini anche se hanno obiettivamente per fortuna poche probabilità di ammalarsi eh seriamente di covid comunque ogni tanto eh questa cosa succede e eh questo va messo insieme al fatto che i bambini devono riprendere una vita normale perché non possono continuare a stare in emergenza a crescere in emergenza il virus c'è quindi inevitabilmente eh se eh non non si vaccinano prima o poi eh verranno contagiati e se vengono contagiati bisogna mettere in conto un rischio piccolo ma non inesistente. In confronto i vaccini invece non presentano un serio problema di effetti collaterali gravi c'è questo sospetto delle miocarditi ma è più grande nella fascia di età dai sedici ai venticinque anni sembra di crescere con le con l'età e in più eh sono miocarditi che generalmente si risolvono in maniera totalmente eh benigna contrariamente a quelle che invece derivano dall'infezione da covid che possono essere più serie. Quindi facendo il bilancio costi benefici io credo che non ci sia dubbio. Poi se vi posso dire una cosa io ho una bimba di dieci anni e quindi questo questo esattamente il calcolo. Il tema il tema suo quindi la vaccinerà senz'altro. Senz'altro. Assolutamente. Veniamo invece a questa Omicron. Allora notizie per varie settimane un po' altalenanti. Adesso arrivano i primi dati un pochino più certi anche dal Sudafrica sembra contagiosa o più contagiosa della delta però tutto sommato porterebbe una sintomatologia lieve. Eh ci conferma un po' questi dati? Ci sono altre notizie in merito? Ma io credo che su Omicron sia veramente il tempo dell'attesa perché nella scienza esiste anche il tempo dell'attesa. C'è una qualcosa di nuovo bisogna darsi il tempo di osservarlo e di trarne le conclusioni. Allora quello che si vede finora non è tantissimo. È vero che i dati del Sudafrica ci dicono che sembrerebbe essere meno grave ma non sono dati particolarmente ampi e in più riguardano una popolazione che è anche demograficamente diversa dalla nostra. Mediamente è più giovane. Quindi bisogna veramente vedere cosa succede da noi. Eh per ora eh diciamo non abbiamo motivi di pensare particolarmente che possa essere meno grave però non abbiamo neanche motivi di pensare per esempio che possa sfuggire ai vaccini in modo drammatico oppure che possa essere particolarmente grave. Quindi questo è il momento di tenere alta la guardia ma di restare assolutamente con i nervi saldi perché finora niente di drammatico sembra essere successo. Ecco intanto ieri però il presidente dell'AIFA Palù ha confermato che presto avremo a disposizione anticorpi monoclonali somministrabili a casa del paziente. Effettivamente ne abbiamo sentito parlare all'inizio forse più della pandemia poi adesso non se ne sente più tanto eh appunto parlare. Ci spiega bene cosa sono e perché possono magari rappresentare una svolta? Ma diciamo gli anticorpi monoclonali non abbiamo sentito parlare perché hanno delle difficoltà, finora hanno avuto delle difficoltà di somministrazione ma sono stati utilizzati e vengono utilizzati ormai da diversi mesi. Sono sostanzialmente degli anticorpi che vengono somministrati alla persona che sta male prima che il covid abbia fatto danno quindi abbastanza molto precocemente e che fanno quello che farebbero gli anticorpi naturalmente prodotti dal corpo o in seguito vaccinazione o in seguito risposta immunitaria cioè bloccare il virus e impedirgli di muocere. Il problema degli anticorpi monoclonali che abbiamo avuto a disposizione finora è che andavano somministrati precocemente quindi prima che la malattia diventasse grave ma in condizioni controllate in ospedale questo crea un certo problema di gestibilità quindi evidentemente avere qualcosa di prende a prendere a casa migliora molto la possibilità di gestire questo tipo di terapia ma dobbiamo considerare che non ci sono neanche solo questi in arrivo ci sono anche degli antivirali veri e propri quello della Merck e quello della Pfizer che invece pure loro si prendono come pillole agiscono proprio come antivirali quindi vanno direttamente a bloccare l'azione del virus e rappresentano una prospettiva estremamente interessante. Ricordiamoci però che sono farmaci e quindi la malattia è sempre meglio prevenirla piuttosto che curarla perché quando si deve curare qualcosa si mette in conto delle conseguenze più pesanti per l'organismo rispetto alla prevenzione che si può ottenere col vaccino. Galla Votti salutiamoci così l'anno scorso circolavano dei bigliettini con le regole del pranzo di Natale non più di un tot a tavola distanziamento occhio quando vi scambiate i regali eccetera eccetera eccetera. Quest'anno come dire le diamo per scontate perché tutti noi abbiamo imparato la procedura oppure la situazione è veramente diversa anche pranzi c'è più libertà ecco. Ma insomma io spero che ci sia più libertà anche ci conto anch'io sul pranzo di Natale dopo due anni dobbiamo sicuramente stare attenti quindi io vorrei che al pranzo di Natale ci fossero dove 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 consiglio di andare ci fossero solo persone vaccinate e bisogna adottare delle precauzioni. È fondamentale per esempio garantire il ricambio dell'aria. Lo so che è inverno che fa freddo però insomma ricordiamoci che questo è un virus che si trasmette attraverso le goccioline in sospensione dell'aria quindi ricambiare l'aria è fondamentale e bisogna cercare di essere più prudenti possibile naturalmente evitare i grandi assemblementi. Consiglio molto semplice quanto utile aprite ogni tanto la finestra che insomma qualcosa si risolve. In generale della vita questo no? In generale sì è vero al di là del virus al di là del virus. Barbara Gallavotti grazie ancora buona immacolata ci sentiamo molto presto e naturalmente buone feste. A voi. Grazie.